Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza, continua il percorso del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime amministrative, oggi abbiamo finalmente una data e quindi continuiamo nel nostro cammino verso l'undici di giorno. Accanto a me ho due ingegneri oggi, sono ben rappresentato, l'ingegnere Andrea Raggi, esponente di lunga corso del Movimento, l'ingegnere Giovanni Bateroni, poi vedremo per quale motivo sono in così buona compagnia. Allora, intanto facciamo una presentazione proprio fondita dell'ingegnere Andrea Raggi, 44 anni, ingegnere di laurea in ingegneria Pisa, due master sul corpone, possiamo dire, master sulle spalle, su gruppone, non si è fermato come del resto di molti di noi, non si è fermato semplicemente alla laurea, ma ha continuato negli studi, nel suo caso uno per la via di imprese ad alta tecnologia e l'altro per la gestione delle imprese e l'innovazione in contesto internazionale, quindi nel monastero indubbiamente di peso. Ha fondato e successivamente c'è voluto pure start-up nel campo dell'ingegneria analogica e la vaste canica, internazionale, anche nel stoccaggio di energie per l'ingegneria, non so se l'energia è nuova. Attualmente è direttore commerciale per un'azienda svizzera, che si occupa di sistemi di sicurezza per le navi di vario tipo. Indubbiamente questa attività lavorativa ha portato a viaggiare a portare il mondo, quindi ad entrare in contatto con culture molto diverse anche dalla nostra. Questo ha sviluppato per lui anche la capacità di approfondire l'ascolto degli altri e cercare di entrare nel punto di vista degli altri, e cercare di capire il punto di vista degli altri senza per questo volerle condividere con me. Pertanto la scelta per l'assessorato alle attività produttive, ai lavori pubblici, ai fondi europei, nonché all'economia del mare, è caduta appunto sull'alberia. Data appunto l'esperienza anche proprio lavorativa in questo caso. Passiamo a lui oppure preferisci... La squadra piano piano comincia a formarsi. Due degli assessorati, diciamo, di peso, se la collettività cadarese vorrà affidarci questo compito, li abbiamo individuati appunto in due attivisti storici che erano Mattia Martinelli per l'economia, scusate, per il bilancio, tutta la parte, diciamo, finanziaria dell'amministrazione, e Andrea per quanto riguarda appunto i lavori pubblici e l'attività produttiva. L'attività produttiva è per il momento lasciando fuori ovviamente il marmo e altri settori perché insomma poi la distribuzione vera e propria delle tele che ovviamente verrà fatta in un secondo momento, però ha grandi linee insomma. i due assessorati importanti li abbiamo individuati. Poi abbiamo qui l'ingegnere Giovanni Vatteroni, però lui ci mostrerà più in modo approfondito il progetto da lui realizzato sul porto turistico, come abbiamo mostrato in parte sul programma turismo, e comunque seguendo quella che è l'ottica del Movimento 5 Stelle, cioè la riduzione della cementificazione, evitare la riduzione degli spazi naturali e cercare di ottimizzare al meglio quello che già abbiamo. Io qui in taggio, magari possiamo parlare intanto a Andrea, poi dopo passeremo la parola anche a Giovanni. Buongiorno a tutti, grazie per la presentazione. La mia prima conferenza stampa, se mi sono un po' nervoso. Allora, come ha detto lui, mi occuperò delle deleghe relative alle imprese, quindi escludendo quelle delle attività estrative, per cui non ho una competenza specifica e probabilmente verrà fatto un'assessorata docca, quindi mi occuperò di attività produttive, di lavori pubblici, di finanziamenti europei, di pianificazione dell'economia del mare e anche di innovazione tecnologica. La maggior parte di queste deleghe derivano, diciamo, ho avuto esperienze sia dirette che indirette nella mobilità operativa o nell'attivismo e movimento. Quindi relativamente all'attività produttiva, volevo presentare alcuni, diciamo, punti che poi magari vi manderemo anche finita la conferenza, che sono nel nostro programma e saranno nel programma quando sarà finito e rilasciato, però intanto dovremmo condividere con voi questo. Relativamente all'attività produttiva, noi vorremmo rendere Carrara attraente per le imprese, le imprese che creano lavoro attraverso le buone idee. E come facciamo a rendere attraente Carrara per queste imprese? Attraverso politiche di semplificazione burocratica, perché oggi, se uno vuole aprire una qualunque impresa che sia un esercizio commerciale o un'azienda mentalmeccanica, ha moltissima burocrazia davanti. Tanta di questa burocrazia è assolutamente evitabile utilizzando gli strumenti tecnologici oggi disponibili. A volte uno deve andare in comune, fornire gli stessi dati e ha due, tre, quattro uffici diversi. Tutto questo è evitabile attraverso delle soluzioni che non sono da inventare, ma sono solo da copiare ad altri comuni. E questo sicuramente è una cosa di cui ci occuperemo. E probabilmente sarà una delle prime attività che se i cittadini di Carrara vorranno darci fiducia sarà svolta dalla nuova amministrazione. Perché non richiede particolari investimenti economici, richiede solo una forte volontà politica e una capacità tecnica di fare dei cambiamenti. Poi anche da un punto di vista urbanistico c'è bisogno di ridurre le interferenze fra le destinazioni d'uso delle aree. A volte le attività produttive, le attività abitative, le attività commerciali nel nostro comune sono totalmente sovrapposte. E questo crea dei disagi enormi sia alle industrie e sia agli abitanti che si trovano a convivere con le industrie. E chiaramente poi questo attrito genera fastidio sia da parte degli abitanti sia da parte degli imprenditori. Però è generato da politiche sbagliate da parte del comune che non dà le linee guida corrette e non è abituato a separare le funzioni del territorio. Quindi questo è chiaro che servirà una forte integrazione con tutti gli assessori però sicuramente la volontà politica è quella di riuscire a dare una specializzazione funzionale a tutte le parti del territorio. Da questo punto di vista per riuscire a incoraggiare le persone che hanno delle buone idee e vogliono avviare delle imprese vorremmo studiare un percorso che permette di arrivare anche all'apertura di un incubatore di impresa nel nostro comune perché oggi non c'è un incubatore dove un giovane che ha un'attività innovativa e vuole fare impresa ha difficoltà a trovare un posto dove avere un ufficio a basso costo una sala di riunioni decente a basso costo un posto che sia ben collegato ai trasporti pubblici potenzialmente collegato con l'università quindi ci sono molte esperienze tra cui quelle dell'incubatore di Fano che è venuto anche a presentare le sue attività durante un recente evento del movimento che abbiamo fatto circa un mese fa sulla trazione dei fondi europei e queste strutture sono molto importanti per fare da volano per la creazione di nuove imprese da parte dei giovani e la maggior parte delle imprese create dai giovani sono anche ad alto contenuto di innovazione perché anche solo per ruolo anagrafico hanno una digitalizzazione molto superiore rispetto alle persone in una certa età quindi attraverso questo strumento che chiaramente è un obiettivo di medio termine non è una cosa che si avviene in poco tempo è possibile sicuramente incoraggiare quelli che vogliono essere degli imprenditori a farlo senza troppe difficoltà burocratici che sicuramente oggi riceviamo un pochissimo la mentele da parte di giovani che vogliono aprire un'attività e non sanno dove andare e hanno tantissima burocracia e tanti costi da affrontare poi relativamente all'economia del mare questo oggi vorremmo presentarvi un progetto per la realizzazione del porto turistico all'interno del porto commerciale che è sempre stata nel nostro programma anche dal 2012 e finalmente grazie alla collaborazione di professionisti che si stanno avvicinando al movimento in questo caso diciamo vi presento anche se l'ho già presentato Francesco l'ingegner Giovanni Barteroni che si è gentilmente apprestato la sua opera per realizzare un progetto che rispondesse alle normative tecniche sulla progettazione dei porti e fosse credibile cioè non sono delle idee campate per aria ma è un progetto che può essere discusso con l'autorità portuale con le persone che nel porto ci lavorano però di questo vi parlerà più approfonditamente lui da questo punto di vista quello che ha ricevuto come input politico è quello che abbiamo sempre diciamo detto e ridetto ogni volta cioè che la realizzazione del porto turistico deve avvenire all'interno del porto commerciale perché noi non vogliamo cementificare né a terra né in mare quindi dal nostro punto di vista cerchiamo di riutilizzare di ristrutturare ridare una funzione cambiare la funzione a delle manufatti che esistono già e che oggi sono sotto utilizzati dall'amico poi vorremmo anche insediare i locali per i giovani in un'area che non disturbi la popolazione residente di Marina che continuamente si lamenta e anche questo è un'altra di quelle frizioni che è creata dal fatto che il comune non riesce a prendere una decisione e mette sempre insieme attività che vivono con difficoltà insieme quindi è chiaro che se mettono dei locali a vocazione notturna in un posto dove ci sono le famiglie a dormire durante l'estate che uno vuole anche avere una città con una vita notturna con dei giovani che vengono e portano luce alla città oltre che vita devono essere nelle condizioni di fallo senza disturbare il turismo familiare che storicamente viene a Maria di Carrara quindi in questo noi dovremmo trovare un posto all'interno del porto anche per quell'attività quindi i locali per i giovani nel porto nel porto poi anche lì nell'idea di dare a Carrara una vocazione turistica perché a lungo termine noi insistiamo sulla non è anche riconversione ma ci deve essere un aumento di impatto degli altri settori oltre al settore estrativo che chiaramente giustamente ha una predominanza perché i numeri sono sempre numeri cioè non è che sparisca il settore economico delle carri è sempre importante però noi vorremmo incrementare quella quota di economia derivata dal turismo che è possibile avere in un territorio ricco come il nostro e questo secondo noi è possibile farlo anche incrementando il turismo derivante navi a crociera realizzando un terminal crocieristico sempre all'interno del porto commerciale e poi diciamo anche la realizzazione di una parte dedicata alle imprese della filiera della nautica cioè i cantieri che costruiscono yacht e che hanno sempre chiesto un sistema di alaggio e varo delle imbarcazioni un sistema per poter intervenire sulle barche una volta la rate e quindi abbiamo recepito questo tipo di richieste che sono state poi passate intorno a Ingevaterone che ha costruito un progetto complessivo che poi vi faremo vedere quindi questo diciamo relativamente alle attività produttive poi diciamo due parole sul commercio anche se non è ancora diciamo scontato che questa diciamo la delega ricada nello stesso assessorato perché potenzialmente potrebbe essere accorpato al turismo o ad altri assessorati però da questo punto di vista sicuramente ci deve essere una programmazione unica degli eventi perché cioè nella nostra idea di città unica cioè che Carrara sia una città sola non è possibile avere una programmazione per Marino o una per Avenza per Carrara questa è una cosa che è totalmente una cronistica oggi non è che io vado sul sito del comune trovo gli eventi sono sicuri che ci siamo tutti questa cosa certamente cambierà indipendentemente da chi sarà avere la delega del commercio questa unione del diciamo delle banche dati è una cosa fondamentale questo fa anche un po' parte diciamo della delega innovazione tecnologica che seguirò sicuramente io e che diciamo passa attraverso del lavoro che diciamo è poco appetibile dal punto di vista di comunicazione perché se uno parla di unificazione delle banche dati del comune non è un argomento su cui diciamo è interessante per il pubblico ma ha un impatto enorme sull'interazione della città con l'amministrazione comunale vuol dire che io una volta che ho dato i dati al comune lui ce li ha non mi chiede dove abito la residenza il codice fiscale perché li ha già oggi succede che per fare un'attività devo dare cento volte i dati perché tutte le banche dati al comune non si parlano e il cartasco non si parla con l'IRES l'IMO cioè sono tutte banche separate quindi questo è relativo diciamo come note relativamente innovazione tecnologica rimane sui lavori pubblici una nota molto importante che ci teniamo che abbia una certa rilevanza che per noi le procedure di affidamento delle opere pubbliche avranno come modalità standard i concorsi di idee i concorsi di progettazione le gare d'appalto cioè verrà certamente abbandonata quella pratica terribile della segnazione diretta senza gara che ha generato tantissimi problemi cioè la riduzione in lotti minuscoli delle opere pubbliche in modo da ricadere nell'assegnazione diretta ma anche per gli appalti piccoli ci rinunciate a priori? non è rinunciarci a priori dipende cioè la modalità standard sarà quella sempre di fare gare pubbliche per tutto poi è chiaro se alla fine uno deve comprare 10 euro di un oggetto forse non vale la pena però se io devo rifare l'asfalto di una strada quello non è un appalto di 10 euro quello è un appalto che deve andare a gare anche se sono 20.000 euro cioè anche se fosse nel 40.000 però se io faccio gli appalti strada per strada poi mi sono fatto tutto il comune senza fare neanche una gara allo stesso modo sui progetti tutti gli architetti cioè l'ordine degli architetti lamenta che gli architetti locali hanno enormi problemi di accedere ai lavori del comune perché perché non c'è mai una gara non c'è mai un concorso di progettazione non c'è mai un concorso di idee invece per noi questo deve essere il modello standard di affrontare qualunque problema anche perché una volta che il comune riesce ad avere tanti progetti dopo ha la possibilità di presentarli anche alla cittadinanza di incoraggiare la partecipazione perché se io ho 10 progetti buoni poi posso anche volendo interpellare i cittadini e dire quali di questi progetti piace di più a tutti perché è chiaro che a ogni progetto non c'è mai il progetto perfetto se ne è uno che fa contento uno uno fa contento l'altro uno privilegia magari la parte industriale uno privilegia la parte turistica i cittadini devono avere voce in capitolo non è che uno ti vota e poi per 5 anni puoi fare quello che ti pare nascondendoti dietro mi hanno votato faccio quello che mi pare questo per noi è sbagliato e quindi sicuramente se i cittadini i cattari ci daranno fiducia saranno chiamati più volte a decidere in questo caso la parte dei lavori pubblici sarà una parte importante domanda è la gara di appalto al ribasso oppure avete già un problema che è nazionale ma anche locale la gara di appalto al ribasso o su diretti una tutela diversa per evitare i problemi che abbiamo già visto con gara di appalto che vengono assegnate da tutte e poi noi siamo nel tutto contrari ai progetti al massimo ribasso il massimo ribasso significa scarsa qualità significa il rischio di non arrivare in fondo alla realizzazione l'esperienza dei tibus in questo senso a qualcuno ha insegnato qualcosa a qualcun altro forse no su questo ci fermiamo quindi da questo punto di vista ora se avete qualche altra domanda relativamente a quello che abbiamo parlato ora poi dopo magari passerei a progetto del porto però non so se volete tenere qualche domanda inoltre al porto quindi su innovazione tecnologica che è un tema che non dire qua si ne parla poco però altrove la smart city è una cosa interessante qualche idea non so per portare il wifi piuttosto che si utilizzare a sviluppare o portare per trasparenza che sia realmente attivibile non so queste cose diciamo da questo punto di vista non riusciamo neanche a definire innovazione tecnologica se posso essere proprio diretto perché per noi sono delle cose che sono automatiche cioè cercare di trovare dei punti della città dove il wifi sia libero oltre alla striscia diciamo dei bagni che funziona o funziona però è una cosa che hanno fatto loro ma sicuramente sarà una cosa che metteremo in piedi perché sull'accesso alla rete è per noi un diritto fondamentale anche l'accesso a una connessione decente è un diritto fondamentale e questo diciamo sta migliorando però non siamo ancora a un livello accettabile anzi è stata una delle prime mozioni che aveva presentato al Consiglio Comunale nel 2012 se oggi non l'abbiamo non è certo per volontà nostra anzi per quanto riguarda le incubature per l'impresa avete presentato anche delle possibili e di una sviluppata potrebbe essere anche un'occasione di rilancio al momento non abbiamo cioè ci sono talmente tante a carare che indicarne una sarebbe secondo me fremantivo quindi ce ne sono tante però se ora ne diciamo una magari poi lo scrivete quindi forse non la diciamo abbiamo questo difetto scriviamo no comunque anche questo attraverso un percorso partecipativo ecco non è che diciamo magari noi troviamo una buona idea dopo diciamo la rendiamo realtà solo perché ne parliamo ecco dovremmo prima fare un percorso un po' più lungo e quello magari diciamo questo lo rimanderebbe un'altra sulle deleghe no tu hai preso cioè prenderai se vincerete questo questo come dire carrozzone che fu di traversa è stato di coppola entrambi si sono presentati con buonissimi intenti sorridevo prima quando parlavi di un programma unico perché i miei colleghi se lo ricorderanno coppola appena arrivato basta cartelloni tre cartelloni non esiste natale si fa tutto e siamo sempre piano dell'area nile piano acustico programmazione su eventi ti sollevo dal mercato perché forse il commercio non ce l'hai te però pius insomma vai a prendere mano un settore che come dire ci ha dato tanto da scrivere negli ultimi anni ecco accoglienza turistica e pullman alle cave quello di forse no però da dove parti ad esempio abbiamo queste strutture dei pius pronte e non utilizzate forse a parte la cava romana abbiamo dei percorsi da reinventare insomma appunto da dove parti perché insomma come ti avrà detto Martinelli che fa parte della commissione cioè noi è cinque anni che sentiamo le stesse cose che scriviamo sempre le stesse cose e non è stato fatto nulla ma quello è un dato di fatto non è documenti che parlano da questo punto di vista diciamo siamo sempre all'origine dei problemi cioè ad esempio il piano dell'area nile sconta i problemi di commissione di funzioni diverse nella stessa area se loro vogliono mettere i bed and breakfast nei bagni e poi vogliono mettere i locali notturni ovvio che chi va nei bed and breakfast vuole a dormire questo diciamo si risolve a monte però cioè quindi da questo punto di vista prima c'è da capire bene il livello di confusione normativa in cui siamo e in cui ci lasceranno certamente perché avremo delle cose che sono molto agitate e quindi trovare una soluzione sicuramente non sarà immediato quantomeno noi abbiamo delle linee politiche che sono chiare ed evidenti non dobbiamo far favore a nessuno e quindi non abbiamo tanti vincoli che magari ci sono ma non si vedono e che a volte fermano il progresso delle strutture perché non si facciano i bandi per assegnare le strutture che sono finite e questo onestamente non riesco a immaginarmelo e poi anche il fatto perché non si riesca a fare un calendario io ho la massima stima di chi ha ricoperto questo ruolo prima di me se mai potesse ricoprirlo però devo dire la verità continua a non sembrarmi uno stato insommontabile visto che penso che anche Coppola nella sua carriera abbia fatto cose più difficili di fare un calendario unico quindi ritengo che dietro ci siano state delle altre motivazioni che non posso sapere perché magari sono politiche in terra della maggioranza che non conosco però non c'è una ragione logica che possa impedire la organizzazione di Italia Marina c'è solo che uno non lo fa e questo sicuramente per chi ha continuato a portare avanti il problema per 60 anni anche per altri 65 lo porterà avanti il problema noi fino ad oggi non ci hanno mai messo la prova intendo che se vorranno mettersi alla prova penso che si ricrederanno almeno su cose semplici come queste ecco non penso di sbilanciarmi dicendo che questa cosa anche se lo dicessi a coppola non posso sentirmi dire che è difficile fare il calendario con l'indizio quindi non dimentichiamoci noi partiamo dal presupposto appunto se la città vuole affidarci all'amministrazione che noi abbiamo bisogno di ripartire praticamente da zero su tutti a 360 gradi purtroppo più la realtà della città la vediamo basta girarsi intorno non c'è un settore che in qualche modo può salirsi a posto sarà da mettere in sesto una macchina amministrativa fare in modo che i dipendenti comunali possano lavorare nel migliore dei modi e con una soddisfazione reciproca degli utenti e di loro stessi si deve rimettere manuale partecipate c'è ancora tantissime cose su cui lavorare ci vorrà indubbiamente tanto tempo tanta pazienza le buone idee ce le abbiamo cercheremo di metterle a frutto nel migliore dei modi quindi ovviamente sarà un lavoro impegnativo sono i pubblici poi io se non finivo la sua risposta relativamente ai Pius che diciamo questa è una cosa anche lì il problema è all'origine il fatto che il comune attualmente non ha un bel armadio pieno di progetti pronti belli condivisi con la popolazione che quando esce un bando c'è solo da scegliere quale portare a oggi tutte le volte che è uscito un bando si aspettava l'ultimo mese e poi c'era la corsa oh c'è un bando corriamo lo dobbiamo fare a scrivere le cose diciamo con poco tempo una approssimativa diciamo capacità di scrivere i bandi di finanziamento perché se leggiamo i bandi che sono stati presentati vedi il bando delle periferie in cui siamo arrivati centoquindicesimi su centoventi bandi presentati cioè onestamente grida vendetta il cielo quindi questo genere di cose non è che ci voglia tanto a migliorare poi è chiaro che non è che domani arriva il salvatore della patria io stiamo parlando almeno di ripristinare la normalità cioè che uno parte dicendo io voglio avere dei progetti questi progetti non è che devono averli finanziati subito perché è chiaro che non arriviamo proprio con un coppia che giriamo alcuni soldi e facciamo operare così però noi vogliamo avere tanti progetti fatti attraverso dei concorsi di idee dove tutti gli architetti possono venire e presentarli e così la popolazione prende confidenza con questi progetti sceglie di amarmi qualcuno piuttosto che un altro quando esce il bando giusto si presenta il progetto così non c'è da litigare con la gente perché ah ma mi hai fatto questo non lo sapevo e non c'è neanche quella diciamo quell'imbarazzo di dire devo spendere i soldi entro una settimana perché sennò mi ritirano i soldi che questo succede sempre vedi cioè i bar di Pius vedi il Tarnone oppure vedi la stazione di San Martino cioè ma il waterfront c'è anche un problema di condivisione cioè è chiaro che il waterfront devi fare qualcosa che sia accettato dalla città non puoi fare qualcosa che sembra sempre cioè calato dall'alto o che arriva uno nella presentazione ti dice andiamo a pescare nel carriolo perché questa cosa la ricorda tutti penso e se la ricorderà ancora per un sacco di anni in tutta la città quindi niente da dire con un architetto che viene da fuori anzi però andrebbe informato prima della situazione questa è verità di un genere di cinque luoghi ma il ricorso alla partecipazione così frequente della rapparete dei cittadini non può essere un grosso rallentamento addirittura motivo di immobilità ritengo certamente che non succederà poi alla fine troveremo ovviamente si tratta di muoversi per tempo di saper indirizzare in modo conflicto la partecipazione perché la partecipazione non deve essere come quella che è stata per il voto e il fondo dove si arriva dove si vuole arrivare noi la partecipazione la intendiamo cioè ci sono progetti di un certo tipo come li vogliamo portare avanti ci sono quattro cinque tipologie sono i cittadini che devono scegliere quella che ritengono la tipologia adatta al contesto sociale al contesto civile al contesto appunto cittadino in cui i cittadini vivono questa la filosofia di fondo non è una partecipazione per far arrivare a cui vogliamo noi è una partecipazione aperta effettiva reale è chiaro che se i progetti li abbiamo prima ci saliva con i tempi giusti ovviamente bisogna saperla far fluire la partecipazione non di cercare in continuazione Ad esempio banale oggi andremo a fare un intervento sulla piscina di via Sarteschi con dei finanziamenti interni al comune perché è stato perso un bando sull'abbattimento delle barriere architettoniche che aveva dovuto essere utilizzato se ovviamente si è fatto per tempo. Ora la piscina di via Sarteschi non è che sia una piscina aperta oggi, insomma con la barriera architettonica sulla vasca piccola in realtà si sapeva che c'erano già dalla sua realizzazione, se è anche cambiata la normativa nel frattempo non è certo cambiata due mesi fa, quindi i problemi di questo tipo si conoscevano già, bastava avere un progetto che è stato fatto in realtà all'interno dell'amministrazione, è stato fatto nel giro di pochi giorni per realizzare un bagno per i disabili, uno spogliatore per i disabili, non è che ci voglia chissà quanto e ad oggi abbiamo potuto provare ad accedere a un finanziamento europeo, invece non è stato fatto, addirittura almeno si sapeva che c'era questo bando, per cui l'amministrazione lo farà con il suo sentente. Questo noi lo vogliamo evitare, se ci muoviamo per tempo, noi sappiamo che possiamo arrivare ai bambi, alla possibilità di finanziamento, comunque alla realizzazione dei progetti per tempo. Sul problema del mare c'è il problema, se vogliamo dire, dell'attualità culturale che è accolpata, che comunque sia diventato un soggetto con cui dovete interagire, interpacciarvi, qual è la vostra posizione su questo problema? Da questo punto di vista infatti noi presentiamo oggi la nostra idea del porto e facciamo anche un appello per incontrare la doveressa Roncallo e sicuramente andremo a interagire con l'autorità portuale che ovviamente oggi risponde all'autorità portuale di Spezia. È chiaro che sarebbe stato meglio che non ci fosse stato questo accorpamento, visto che la regione aveva la possibilità di richiedere un rinvio di due anni rispetto all'accorpamento. Su nostra espressa richiesta del nostro consigliere regionale Giannarelli abbiamo fatto interrogazione su perché la regione non abbia richiesto questa proroga e la regione ci ha risposto che non ha ritenuto di chiederla. Questa è stata la risposta. Quindi, diciamo, senza fare le azioni, ognuno può arrivare alle conclusioni che preferisce. Ora c'è l'autorità portuale di Spezia e quindi interagiremo con loro. Riteniamo che in un'idea di aumentare il valore complessivo del porto, è chiaro che attività più valore aggiunto portano anche più soldi con l'autorità portuale, più attività, quindi ritengo che possano avere un attesamento aperto a questo punto di vista. Penso che sia nell'idea di tutti quello di migliorare senza fare concorrenza al porto di Spezia, ma trovare una complementarietà tra le due scale. Se ci sono altre domande, magari facciamo vedere il progetto. Serve il progetto che avremmo definito l'AIP. Esatto, questa diciamo serve solo a spiegare, però ora facciamo la parola a Giovanni Pelloni. Io volevo ringraziarvi prima di tutto, ma vado a cercare di Andrea per l'opportunità che mi è stata data, perché più che di un porto turistico, io qui vedo una rivisitazione generale del porto di Maneri Carrara, il porto che è una risorsa indubbiamente per Carrara, tutto il nostro territorio e fino adesso è stato sicuramente utilizzato del 90% per quanto riguarda l'attività del marmo, quindi esclusivamente dedicato al marmo e con un operatore singolo che ha fatto ovviamente del lavoro buono, ha dato un lavoro a tante persone, però visto che in questi ultimi anni l'attività del commercio, del traffico commerciale si è ridotta, mi è sembrato giusto cercare di sfruttare il porto di Carrara per tutta la collettività. Io sono un marinello che da quando sono bambino sento parlare del porto turistico, e quindi è un sogno di tutti i marinelli, penso anche di Carrarini, avere la possibilità di avere un porto turistico che porta sicuramente dei vantaggi. Ora, se andiamo a vedere un attimo la descrizione del porto, poi torniamo un attimo indietro che facciamo... Allora, un'altra esigenza che è venuta fuori sempre è stata quella di separare la parte industriale dalla parte abitativa. Come sapete, attualmente i camion che vanno dalla macchina Fiorillo e la macchina Quisi Polente passano davanti alle case, passano nella zona, diciamo così, abitativa. Quindi è sempre stato un problema, questo qua è irrisolvibile, fin tanto che ovviamente il cantiere con la sua realtà non poteva essere aver tolto. Quindi l'idea è stata anche quella di cercare di separare in maniera netta quello che è l'attività industriale di traffico commerciale dall'attività invece di carattere turistico. Quindi l'idea fondamentale è creare una zona allevante esclusivamente dedicata alla parte commerciale, con l'accesso nel dal piazzale città di massa, quindi i camion non sono più legati al sale. cercare di toccare il meno possibile che l'esistente, perché ovviamente andare a toccare l'esistente significa andare contro quello che sono le realtà industriali, le realtà sportive, per esempio il fernautico non verrebbe toccato, il cantiere non verrebbe toccato, anche altre attività, magari per chi non è, per un'autica o per un'autica, per un'autica o per un'autica, per un'autica o per un'autica o per un'autica. Quello che dovrebbe significativamente modificato è la creazione di questo pennello e la creazione del porto turistico con un annesso tutto un centro commerciale, un centro di convivialità, con piazze, con parcheggi e con passeggiate lungo il porto e poi separato da questa banchina di protezione la zona delle crociere. Le crociere in questo caso avrebbero una zona dedicata, quindi tutta la possibilità di fare una terminal, un terminal di passeggeri vero, serio, dove addirittura questa zona potrebbe diventare anche un navo commerciale, cioè le navi e i passeggeri possono avere qui la possibilità di imbarcare, ci fa sbarcare, quindi c'è la possibilità di avere un Carrara come un punto di riferimento per l'inizio di una bruciera o con l'arrivo di una bruciera con tutto quello che è il vantaggio dal punto di vista l'immagine. Io in maniera un po' fino a così con enfasi ho chiamato questo progetto Porto 5 Stelle, perché ci sono 5 realtà che in questo porto dovrebbero convivere e dovrebbero essere sviluppate. Quelle che esistono già, cioè la prima stella è la parte pubblicamente commerciale, la seconda stella sarà la parte della costruzione lavata, la costruzione di iota, che in questo caso varebbe addirittura implementata perché da sempre i cantieri che sono nella zona di massa soffrono della mancanza di un sbocco a mare. Siccome io la mia vita ho passata nei cantieri lavalli so quanto sia importante per un cantiere di un sbocco a mare. Non solo lo sbocco a mare per mettere le barche in mare è basta, ma il valore aggiunto di uno sbocco a mare è avere una banchina, un'area dove io posso fare l'avestimento, perché il valore aggiunto della costruzione navale non è la costruzione dello scafo. Ora noi abbiamo diversi cantieri navali qui, di iota nella zona di massa, però molti, a parte uno o due, molti fanno solo, fanno solo scafi e poi questi scafi vengono portati via a questi interessi da rischi. Il valore aggiunto è l'avestimento, quindi se noi riusciamo a dare a queste, a queste, diciamo così, cantieri, la possibilità di avere una banchina dove io posso fare l'avestimento finale del bancho, che questo significa tenere in casa, tenere all'interno del comune di Carrara, nella nostra zona, l'avestimento del bancho, più di un valore aggiunto. Questa banchina è completamente nuova. Questa banchina è completamente nuova. Questa banchina è completamente nuova. Pensa, ma l'area dove c'è Grandi. L'area dove c'è Grandi. Grandi è questo qua. Grandi è questo qua, che potrebbe essere addirittura anche messo qua. Questo dipende a seconda della situazione commerciale del porto. Non so se avete visto nel porto, oggi come oggi, normalmente ci sono due o tre navi che sono in sosta. e tutta la parte del pignone che... La parte del pignone rimane più qua. Questa distanza qua, da qui a qui, da qui a qui, sono più di 200 metri. I sacri testi dicono che per avere un'attività di sicurezza, di operatività delle navi, è in funzione di aumento della larghezza della nave. Se una nave è 30 metri, questa larghezza qui deve essere due volte la larghezza della nave più 50 metri. Quindi, se una nave è da 30 metri, sono 30 per più 30 per 60, 50, sono 110, quindi noi abbiamo 200 metri. Quindi, le navi qui possono operare in maniera sicura. Qui c'è tutta una zona di manovra delle navi perché devono entrare a volontà di dare il libro. Questa situazione qui è una situazione che in tutti i porti del mondo c'è. Tutti i porti del mondo sono fatti a doc, si chiamano, a pennelli. Quindi, qui si ripropone in una situazione che è abbastanza normale. Sono fatti a tutto a... Dove? Doc. Si chiamano doc in inglese, oppure pennelli. Pennelli. Ah, no. No, no. Doc come... Docicampo. Docicampo, sì. Ecco. Quindi, qui rimaneva tutta la parte, diciamo così, commerciale. Qui ci sarebbe grandi, qui ci sarebbe un'alberta di domenica del panchile commerciale se non c'era necessità di rendere. Qui c'è l'entrata di lift, il sistema di allargio varo. Anche qui, questa zona di panchina dovrebbe essere dedicata esclusivamente appunto all'attività dei canteri lavati. Il clio nautico rimaneva. Dov'è il cantiere rimaneva dove dov'è. Qui ci sono altre attività che anche la nautica rimaneva dove sono e poi il comporto turistico è di per sé un volano, un volano di ricchezza. Io, cioè, tutti, tutti i comuni che hanno un accesso al mare tutti sognano di avere il comporto turistico. Chissà perché. Perché è un è un volano di credibile diciamo così possibilità, di opportunità per il commercio, per le persone che hanno le marche che vengono ad abitarci, portano ricchezza, portano soldi, quindi il porto turistico è ovviamente una proprietà. Verrebbe creata questa manchina che è utilizzata sia per quanto riguarda la propria in ambito passeggeri anche come protezione, come protezione. Perché ovviamente uno dei punti molto importanti è che quando una nave entra, quando una nave entra, se succede una varia con questa nave non vada a finire sopra. A parte che già adesso se va a finire col contro va sopra, alle barche. Per cui questa compissione esiste già. Però qui è stato toccato questo molo per evitare che se per caso una nave entrando a una varia non riesce a girare ma va a spattere col contro uno sbattere contro un molo pazienza si fa male a una nave ma non vai a tutta con magari persone che stanno dormendo a bollire. Quindi questo è un porticciolo con uno, due, tre pennelli galleggianti questo perché sono galleggianti? Perché una delle osservazioni che uno potrebbe dire è ok ma tu c'hai un cantiere navale che può far nave fino a 200 metri a parte che non ne considerano mai più di 200 metri perché la scelta della azienda è quella di andare completamente nella nautica di porto di alto livello tutti i cantieri ormai si sono a parte la fincantiere in Italia tutti i cantieri si sono praticamente tutti si sono ricordati quindi in questo cantiere al massimo potrebbe fare navi io ero ma non so quando si userà di 100 metri 150 metri da questa distanza da qui a qui ci sono 170 metri che più una nave potrebbe riuscire però dice ma io voglio fare una nave anche di 200 metri allora che necessità c'è di uscire per fare una nave da 200 metri una volta all'inquiamento allora per la volta che esce una nave da 200 metri io tolgo questa panchina a galleggiante ti faccio uscire e poi rimetto la panchina a galleggiante siamo tutti tu vai a metterti qua come si mettevano qua le navi di primario non so se lo ricordate io c'ero almeno quando erano i tempidoni in questa cantiera quindi 250 circa 250 posti barca che creano sicuramente l'opportunità di avere un sacco di persone ora noi qui questa è un ipotesi io non sono un architetto per cui mi sono divertito a buttare giù un ipotesi questa sarebbe la passeggiata qua qui verrebbe una strada la strada che attualmente è di esclusivo utilizzo dei cammi all'interno del porto verrebbe aperta tutto questo sarebbe il famoso waterfront che verrebbe l'interno alla luce di questo progetto come si coniugherete con un progetto di waterfront o comunque di riorganizzazione degli spazi si intererrebbe perfettamente perché praticamente questa sarebbe la naturale prostituzione delle cose forti di quella tutto quello studio più o meno pare che non vogliamo usare adesso nei discorsi però qui adesso è previsto la waterfront tutta quella zona commerciale lì è prevista la zona commerciale dove ora si sono le svantellate voi immaginate che le persone che hanno un'attività commerciale le persone che vanno qui ai negozi possono continuare a passeggiare non più non avranno più le barriere il porto tra virgolette commerciale viene chiuso dove viene chiuso qua viene chiuso qua il cantiere l'entità si l'area dove non puoi andare è questa qua rimaneve questa qua qua tu camminando lungo l'attuale passeggiata l'attuale scendi le scalini vai nella zona scendi scendi c'è dove adesso ci sono tutti i tubi dove ci mettono tutte quelle vedrete la metto qua o la metto nel città di massa o la metto anche abbiamo tutta un'area attuale è chiaro che attualmente le banchine sono circa mille mille passamenti qui le banchine sono di meno quindi è chiaro che a qualcosa bisogna rinunciare rinunciare che cosa quanto di meno mi scusi quanto di meno adesso bisogna valutarlo meno però credo che sarà 30% meno 30% meno però se io la mia passeggiata non dico quotidiana ma è quella di andare lungo al posto e vedo che le banchine sono assolutamente sottoutilizzate cioè vengono usate come deposito di giuntini di ferro che mi sembra veramente abbiamo giuntini di ferro con la vista sulle cave di terra del mondo insomma ecco quindi veramente è un quindi qui vedete una strada una strada per dare accesso alla zona del termine da torcere con un paccheggio eccetera eccetera e qui vedete invece un'area tutta una zona pedonale una zona pedonale che accede direttamente dalla zona dell'alto del waterfall qui ci potrebbe essere un parcheggio che ovviamente c'è esempio quando nel passato si era parlato anche della possibilità di portare il locere qui e fare anche un punto di imbaraccio qua uno dei problemi che erano stati posti era quello che se una nasa carica 400 passigeni ci sono anche però questi avranno 300 macchine dove le lasciano questa dovrebbe essere tutta una zona di parcheggio è paragonabile ai parcheggi degli imbaraccio e degli altri cittadini qui andrà immaginato un posto dove le stanno la dimensione del parcheggio attuale è confortabile con i parcheggi che c'hanno c'è un palafrucciè come c'è per esempio la slide più avanti con le gole sui tondini ci sono i destratori potrebbe diventare una destratori potrebbe fare di questo non e rimangono dove sono non abbiamo spostato nessuno i destratori attualmente i tondini è quel che rimane dei blocchi di marco è tutta questa zona qua ma in termini di capacità questo nuovo porto quanto perde dal punto di vista come c'è volevo capire come lei giustamente dice vado a passeggiare vedo che le banchine sono sotto utilizzate ma lei ha fatto uno studio diciamo mirato per capire quanto si poteva togliere in base al traffico che abbiamo non è stato fatto un calcolo deciso anche perché dipende molto da quello che sono anche situazioni commerciali globali ci sono momenti in cui il traffico commerciale va alle stelle perché l'economia mondiale va bene ci sono momenti in cui questo posto è stato vuoto per decine giorni così risponde comunque alle esigenze attuali a meno che quanto riguarda il traffico commerciale secondo me perché effettivamente c'è una diminuzione di quello che è l'utilizzo qui abbiamo visto che ci sono cinque navi io nel porto raramente ce ne sono cinque ce ne sono due tre quattro poi il fatto che una nave rimanga fuori un giorno per aspettare che si libri un posto non è la morte di nessuno io vedevo quando ero bambino che c'erano decine di navi fuori a aspettare ancora non ci sono più perché sicuramente i servizi di carico scarico sono migliorati perché viene stato coincidato perché una volta questo posto era l'unico portamondo che faceva attività sul marco adesso c'è un pozo di maniera che c'è un pozo potenza che ci sono già adesso il rumore soltanto di redditi mentre redditi non cambierebbe che pocazzo già lì a l'arca c'è sempre stato ma ci rimarrà no dici siccome ci sono già una quantità di rette di proteste collegate il rumore aggiungere questo degli abitanti delle zone dietro di catorna di quella parte lì qui innanzitutto di fronte c'è il cuscagnole c'è tutta la piazza sicuramente anche a catorna il rumore continuerà a fare rumore queste navi l'attività di traffico commerciale non è che cambiano perché ci siano navi più meno questo non mi sembra sia tale diciamo che se andassimo a togliere un mandamento alla parte commerciale sarebbe molto tranquillo ma sarebbe anche realizzabile cioè per il discorso di prima anche un'altra protesta da parte di l'abbia giunto quindi probabilmente i fondali invece i fondali sono già i due interabili di una rada di una posta questi qui hanno un fondale di 8 metri certo di 10 metri di fondale che è previsto dal punto di vista tecnico che è sufficiente certo devono ragazzi adesso non è 10 metri quindi le attività di ragazzi fondamentalmente il porto deve cambiare più possibile devono confidere qui dentro 5 realtà le 5 stelle diciamo le attività guardiamo un attimo invece ecco questo qua immaginate questo giallo che deve essere la famosa passeggiata con la passeggiata sulla linea che manca con addirittura un piccolo delle passerelle che dalla passeggiata può dare evitamenti in questo centro commerciale perché qua sotto con questa linea gialla è la strada che serve per pullman per i luceristi per andare a vendere costo del progetto costo del progetto gratis se si dà da fare dei project financing sempre però ho capito che magari non lo potrebbe essere un'idea quanto costerebbe realizzarlo io so che costruire un'affare del genere con queste banchine qua costa sicuramente meno di queste banche sono le banchine tutte le altre strutture commerciali ma io credo che credo che non so dico lì 10 milioni di euro uno potrebbe fare tutto anche le due banchine nuove questa e quella di quella l'anno non so forse dipende un pochino come un anno fa ma non l'ora di grandezza 10-15 milioni di euro non credo teniamo in conto quelli che erano i numeri che sono usciti per il progetto di realizzazione del porticciolo turistico alla Bello e lì si parlava di 90 milioni di euro ma è stata abbastanza accantonata non lavorare tirando fuori nessuno in campagna nazionale perché elettoralmente non paga oggi quindi però cova sotto la cenere di qualcuno quindi da questo punto di vista è un unico discorso ma potrebbe stare comunque negli ultimi anni c'è stato un grande sviluppo di porti turistici in varie zone anche in vicina che però poi non hanno avuto questa grande ricordo penso a Spezia ma soprattutto magari anche più a Pisa che ha fatto una bellissima struttura che però si è vero da questo punto di vista c'è una grossa differenza sono tutte strutture che hanno dovuto realizzare in snodo tutte le opere a mare quindi con dei costi altissimi ad esempio il caso di Porto Mirabello che conosco bene personalmente lui è stato anche sfortunato perché perché i costi li ha sostenuti prima della crisi e i ricavi dopo la crisi quindi c'è stata la tassa sugli yacht di Monti diciamo tutta una serie di eventi che è andato fuori economia però questo Porto costa un voto di grandezza meno quindi è chiaro che anche le tariffe sono ci sono anche della realtà invece di Porti che stanno funzionando molto bene ad esempio il Porto in arriva dei Medici a Castiglio Uccello andava molto bene il Porto Lottis è molto bene come si dice Dua a San Vicente lo stesso mi sembra c'è nessun'altra però indubiamente dipende anche come il Porto viene gestito ad esempio il Porto di Maria di Pisa soffre del fatto che non è facile accederci dentro è un Porto poco protetto io sono un diportista del Porto di Centra Reina è il meno possibile dentro lì perché effettivamente è un Porto molto pericoloso se c'è un po' di mare se c'è un po' di ca ma ritornando al discorso Waterfront questo progetto di Codastrofana in realtà risolve tante delle questioni per cui si sbandierava il Waterfront lei dice i camion entrano dal piazzale di Città di Massa quindi infatti questo diciamo perfettamente si compone con l'8-1 e il Waterfront è esattamente è previsto l'idea è quella di non andare a rompere scatole a niente che sia previsto e non sia assurdo vedi il blocco di marmo finto davanti ci ridiamo ma c'è quello nel progetto le dune di cemento quelle cose lì magari anche se non si parla ecco perché ad esempio anche sulla passeggiata sulla diga foranea ci sono degli interventi che vanno a interessare le stesse aree quindi sono conciliabili non alternativi sono conciliabili sono conciliabili a meno di alcune veramente soluzioni della buona dell'attuale colletto che ovviamente sono un po' i blocchi di cemento finto c'è anche un blocchi di cemento finto dopo cinque anni sono tutti rovinati perché voglio dire vai a mettere sulla scogliera delle cose la scogliera deve rimanere libera non puoi andare con le persone sulle scogliere dopo due anni la viene transennata perché è limitata calentosa ma il discorso che lei ha fatto prima dell'assassamento della diciamo della movita di una lina verso il porto e con questa questa zona io qua immagino una piazza dove si possono fare attività si sono radio anche hanno messo hanno fatto adesso in piccolo già anche porto di ravella non so se quella dopo mi sembra di slide a un certo punto facciamo queste sono i piedi queste sono non lo volevo dire però non è sempre una cosa in realtà l'ispirazione a un'olimpio noi facciamo l'altra mi sembra se poi lo scrivete fare i prodotti i concerti al volo di nefante si faccia perché tra l'altro ci sono stata sono molto piccoli e allora non bisogna dire che non c'è essere geni per fare certe cose perché non è solo della volontà approssimai di essere di essere concreti però era un quarto olimpico e voi le olimpiadi no piano mano no io c'è un problema di un saccarlo ma la parte scelistica è un pieno contrasto con Spezia perché Spezia per fare questa cosa è dovuto modificare la settore corte perché è molto più grande dei nostri in posizione noi andiamo a fare una cosa che diciamo anche il vero turistico è impermettibile che entrare quando c'è l'unico di Spezia l'autorità produttuale di Spezia tollerà politicamente tollerà no tu non lo so l'effetto implementare Spezia oggi dal punto di vista delle cruciere sapere con l'arrivo della costa non ha non è che ci abbia più tanti spazi qui dovrebbe essere l'alternativa alla costa penso un MSC quindi il messaggio è essere complementare e l'alternativa assolutamente complementare e non attrazione altrimenti si per la stessa autorità a di là di l'alternativa di se stesso però chiaramente un progetto che a livello turistico è umano uno che arriva sull'alternativa c'era Spezia e uno che arriva qua sempre che si possa realizzare facciamo qui è una situazione completamente diversa no non per campanismo perché Spezia entra in un porto commerciale qui entra comunque in un porto che la chiede no no non per quello però immaginare che volentemente Spezia toglie questa cosa ma che secondo me è un po' difficile no non è che non la toglie no la toglie no non toglie niente la Spezia perché loro hanno la parte cogeristica intanto hanno difficoltà a imbarcare perché comunque sono in un posto che è molto congestionato non hanno tanti parcheggi diciamo è nella via principale della città quindi alla fine Spezia ha formato di traffico enormi che non è in generale diciamo quel giorno della città è molto più grande le infrastrutture sono molto più grandi rispetto a quelle che ci sono sull'uomo aesco della Spezia e loro hanno insieme molti più utenti di infrastrutture hanno tutti i cantieri navali grandi aziende e poi a Spezia c'è una strada quindi a bianco c'è i trasveggiati della notte e ci transiterebbero tutte le auto per andare a un parcheggio come ora dall'ingresso dell'oggi in taricamion e ci sarebbero le auto che vanno al parcheggio per le banche prometto che la prima cosa che faremo toglieremo qui i gabinetti che sono sistemati lì in mezzo come esempio come esempio di grande livello turistico e attenzione che questa amministrazione ha di turismo sicuramente la prima cosa l'eredità l'eredità io lo dico farò un post l'eredità del in procedimento di partire e poi salto tutto rispetto alle concessioni tu hai questa sicuramente le concessioni che questa dà i compri la Porto S.P.A. per fare la concessione di questa zona ma fatta in armonia perché anche la Porto S.P.A. è un'impresa qui si crea tantissimo valore un imprenditore capisce non è fatta contro qualcuno questa cosa qua quando crei un valore faccia fare un accordo perché ci guadagnano tutti e facci la guerra non conviene a nessuno perché questa cosa qua crea un sacco di posti di lavoro un sacco di traffico e tanti soldi per l'autorità portuale e tanti soldi per concessionari è indubbio che se uno ha già una concessione lì commercialmente parlando sì però magari chiede la banchina e si può trovare a gestire anzi una banchina così che vale 10-100 volte di più ricordiamoci che la Porto S.P.A. ha investito tantissimo non ultimamente non è il Porto di Carrara ma è l'ultima guerra senza togliere nulla alla storia della Porto S.P.A. che ha fatto grandi cose che ha dato lavoro a tantissima gente poi ha detto che vogliono me farlo al verbo quindi questa roba qui è questo progetto c'è spazio perché la Porto S.P.A. non potrebbe fare un spazio di spazio mentre in gestione del porto oh allora a terra ah ah questa anche no non è poi visto la lanciamento di niente ora questa è secondo me no forse questo è un po' sì lo spazio se lo lasciamo ci sono strade spazio lo lasciamo ovviamente la predisposizione già forse un po' troppo invasive le costruzioni io immaginavo delle costruzioni un po' meno invasive ecco delle dimensioni degli attuali depositi ci sono capaglioni avete visto ci sono un po' altri a due piani ci puoi imparare a due piani che ci sono nei porti turistici l'idea è che chi passeggia lungo la passeggiata deve avere la possibilità di vedere il campo non deve avere un muro di cemento di negozi insomma ecco e questa è la differenza principale l'unico che fa un po' lì è il capaglione grande di NCA però su Ero no non so l'unico cosa perché non c'è mai di azuto però a fine però gli altri sono più bassi già se ci vuole dare la possibilità devi fare strutture turistiche come a Porto Minapur e al concreto questo progetto qua in comune è un sponsor inferno chiaramente cioè sarebbe l'unico motore quindi qualora diventa assessore cosa devi fare cioè avviare subito un percorso io vorrei avviarlo prima il percorso con la Luccallo perché qua chiaramente l'autore avventuale comanda no io ci andrei più domani ah ok perché alla fine vorrei evitare che domani che so esce fuori in piano della nuova autorità portuale perché inopinatamente il sindaco ha nominato il rappresentante delle comunità in autorità portuale a due mesi alla elezione sinceramente non ci saremmo aspettati un atto del genere e quindi l'autorità portuale in Spezia potrebbe prendere altre strade noi dovremmo interagire per proporre le nostre idee poi magari dipende tutto dai cittadini di Qatar cosa desiderano facciare il porto di Qatar quello che pensiamo noi è dare una vocazione turistica così perché sono varie immagini di stazioni ma chi questo ce ne faremo una ragione ma farete una sorta di consultazione un progetto un percorso di partecipazione un referendum sicuramente tutte queste opere che sono strategiche passeranno attraverso dei percorsi di partecipazione in cui i progetti verranno presentati e verrà chiesto anche un confronto è chiaro che questo è scritto neosuniano il nostro programma quindi che noi vogliamo fare il protecciolo turistico all'interno del porto commerciale in termini a crociere lo scriviamo quindi è chiaro che se uno deve essere anche chiaro la cosa che nel momento in cui noi se fossimo al governo della città presentiamo un piano di partecipazione su questo progetto o comunque su progetti similati o anche su più progetti perché magari vengono fuori altri due o quattro progetti eccetera nel momento in cui la cittadinanza dice sì a noi sta bene questo tipo di progetto beh anche l'autorità portuale ne deve tenere conto cioè qui non è più un sindaco un assessore una giunta che vuole una determinata cosa nel momento in cui la cittadinanza che lavora dal nostro punto di vista assume ancora più valore per cui le autorità ne devono anche tenere conto ne devono cioè non è un'idea del movimento 5 stelle piuttosto che di una giunta o di qualcun altro è l'idea su cui i cittadini hanno portato il loro desiderio e il loro contributo questo è magari vediamo un giusto sì però c'è proprio due minuti perché siamo un po' lì sarebbe sarebbe la travenista con la possibilità dell'allestimento e la non si vede la foto e quella partita dell'allestimento di via ringio e loro c'erano come mezza le case perché l'allestimento era un'attività diciamo di spregio non è costruire uno scafo che c'è taglia e salda sono arredatori sostanzialmente sono tutte attività da altissima intensità di mano d'opera quindi che creano molto lavoro e ad alto valore aggiunto e quindi nel royote quanto è il valore aggiunto? nel royote attualmente quello che fanno la gran parte dei cantieri di maria di massa quelli che fanno gli scaffi è il 10-15% l'80-80% è l'avestimento quindi se viene mantenuto l'avestimento in questa zona sicuramente è un valore anche perché avere uno uno sbocco con un con travelist così messa la barca lì e portata via che ritorno economico può avere il travelist da solo cioè non serve cioè prendo la gru naturalmente della SPA e dito che la porta SPA la puoi rimanere ecco però porto via invece se ho la possibilità di avere una banchina di allestimento le barca stanno lì possono rimettere la terra se mi serve cioè attività di allestimento comporta la necessità di avere un travelist e in questo modo tra l'età non esiste altrimenti il punto di messa madre per la banca valigliata insomma il merda ha poco valore ha poco uova la variazza di un'altra bene mi ringraziamo direi che almeno la notizia c'era quindi e poi ci diventeremo per altre iniziative non ci dimentichiamo invitiamo la procedura per la selezione degli assessori è molto molto in corso e quindi diciamo invitiamo chi volesse presentare la candidatura a mandare la fase avanti perché c'è sempre bisogno ecco di città degli incompetenti è chiaro poi ricordiamo anche di sabato un programma magari l'esperienza delle 5 stelle concreta in attuazione l'autorità portuale via l'autorità portuale via l'epulogo a l'autorità di l'autorità di l'autorità di l'autorità di